Grande successo per la ventunesima edizione di Cantini Aperte in Vendegna. Lo storico appuntamento di settembre, ideato e organizzato dal Movimento Turismo del Vino, è realizzato in collaborazione con l'Assessorato all'Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, che chiama a raccolta gli eno appassionati per condividere il fermento della vendegna. Una prima domenica d'autunno, tutta dedicata alla scoperta dei primi passi per la produzione del vino nelle aziende diffuse su tutto il territorio regionale, che hanno aperto i battenti nel momento clou dell'anno per condividere l'emozione e l'impegno quotidiano del loro lavoro, volto a produrre vini di qualità. Una festa per grandi e piccini che hanno trovato in cantina un'opportunità di svago, allegro e interessante. La manifestazione è stata anche un'occasione per conoscere altri prodotti tipici della tradizione pugliese, grazie al coinvolgimento da parte delle cantine di alcuni operatori del gusto, come casari e artigiani del pane, in una giornata che è diventata occasione per la riscoperta di tutto il ricco patrimonio agroalimentare di Puglia, di cui il vino è simbolo e prodotto trainante. Molto apprezzati anche i pranzi e i picnic in cantina, che hanno permesso di esaltare l'intensità delle sfumature dei vini made in Puglia, oltre alle tante iniziative organizzate dai vignaioli, come verticali di etichette storiche e spettacoli, attività di approfondimento, mini corsi di degustazione con nubi, vino, arte. Prossimo appuntamento nelle aziende soci del movimento turismo del vino Puglia è per domenica 10 novembre, con cantine aperte a San Martino. Vediamo grande curiosità, insomma noi poi dedichiamo veramente tanto tempo a raccontare, a spiegare il processo produttivo, è dall'attenzione, insomma una visita che dura un'ora, in cui si raccoglie parte della nostra voce, che va via, ma vediamo l'attenzione continua, la curiosità, le domande che vengono, e veramente per noi è una giornata fondamentale, ci teniamo tanto, negli anni abbiamo visto una grande crescita nella cultura di chi viene, nell'attenzione, prima si veniva un po' a... ma vediamo che cosa succede, adesso ci sono soprattutto giovani che hanno approcciato adesso il vino in maniera più, diciamo, culturale, come è giusto che sia, insomma siamo molto contenti. È molto importante che la gente venga finalmente a rendersi conto cosa c'è dietro una bottiglia, che c'è tanto lavoro, tanto amore, tanta gioia, e quindi è anche il valore che riesce a capire, spero che i consumatori riescono a capire che cosa si fa, che non è tutto facile o tutto arriva con una bacchetta magica, e quindi credo che sia molto importante far vedere a tutti il lavoro che c'è dalla campagna alla trasformazione e alla bottiglia finale e con quanta cura viene fatto. Quindi io sono molto felice di queste giornate e mi auguro che venga più gente possibile, anche perché si parla tanto di ambiente e quindi l'ambiente siamo noi, noi agricoltori, che manteniamo l'ambiente, senza di noi credo che non si potrebbe avere un ambiente pulito e sano come quello che abbiamo ancora in questa regione.